Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio provare un esperimento insieme a voi. Dato che solitamente vado a trascrivere l'intera conferenza stampa di Tiago Motta e questo mi fa perdere tempo e mi fa arrivare anche in ritardo sulla pubblicazione dei contenuti e dato che per alcuni potrebbe non sembrare esattamente il format migliore del mondo, oggi andiamo direttamente ad ascoltarci in presa diretta la conferenza stampa di Tiago Motta, potremo riservarci lo stop, la pausa per commentare determinate cose e ascolteremo direttamente Tiago Motta. Voglio fare un tentativo, poi magari questa cosa non sarà possibile da replicare, non so nemmeno se dal punto di vista del copyright questo potrebbe essere un problema oppure no, però noi ci proviamo, vediamo come va. Se questo dovesse essere un problema torneremo al format originale, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace di più questa nuova tipologia oppure quella classica. Iniziamo. Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di vigilia di Ministro Tiago Motta, come sempre chiedo di presentare a voi la vostra testata e di fare solo una domanda a testa. Come d'abitudine iniziamo da Juventus.com, Colella. Buon pomeriggio Ministro, ben trovato. Io le chiedo, sarà il suo primo derby della Mole, quali sono le sue sensazioni e soprattutto che partita sarà quella contro il Torino? Grazie. Sensazioni buone perché vedo le squadre bene, come sempre con l'atteggiamento giusto, in allenamento, preparandosi per questa partita con un'atmosfera speciale sia per noi che per i nostri tifosi e domani andare al massimo per fare una grande partita. Questa, come al solito, è la prima domanda, è quella concordata del canale tematico. Poca difficoltà, diciamo che è un po' il riscaldamento, lo stretching di Tiago Motta. Buongiorno, mister Giovane Albanese Sport Italia. Siccome di derby ne ha vissuti molti e in diverse città, le chiedo cosa ha notato di speciale, cosa ha percepito di particolare in questo derby della Mole? Grazie. La importanza di un derby è che sappiamo che la città la vive in un modo molto intenso, però lo viviamo anche noi. Sono delle partite belle da giocare, sono delle partite dove esiste questa bella atmosfera molto speciale che le due squadre sono consapevoli della importanza. Fare il nostro massimo per fare una grande partita e portarla della nostra parte domani. Questo è il solito approccio di Tiago Motta, cercare di fare una gran prestazione, portare la partita dalla nostra parte. Il Torino era partito molto bene quest'anno, in questa stagione. si è un po' perso nel percorso, ho avuto degli infortuni pesanti come quello di Duvan Zapata, non so bene perché anche il mio fantacalcio ha subito un infortunio pesante con il crociato di Zapata, purtroppo. Però per loro è sempre una partita diversa, per loro è la partita che vale una stagione, per noi invece è una partita da tre punti in un momento importante, quindi per noi è molto importante comunque il derby della Mole, anche se per loro può diventare qualcosa di immortale, perché davvero è tanti anni che non riescono a portare a casa il punteggio pieno. Buongiorno Tiago Motta, Alessio Di Giuseppe D'Azon, le chiedo com'è tornata la squadra da lì, l'ha detto atteggiamento giusto in questi giorni, ma fisicamente, perché comunque alcuni cambi, lo ha spiegato dopo la partita, anche li ha dovuti fare per un aspetto fisico che aveva notato nei suoi ragazzi durante la partita, allora le chiedo come sta la squadra. Questa è una bella domanda, perché è anche la tematica che ho affrontato negli ultimi video che ho caricato qui sul canale, quindi l'obbligo di fare determinati cambi, non la volontà. Fisicamente molto bene, abbiamo avuto dopo le partite, avendo due giorni di recupero, questa volta abbiamo avuto tre giorni di recupero, dove è un qualcosa di molto importante perché fa la differenza, le squadre la vedo molto bene, la vedo molto bene e ho fiducia nell'impegno di tutti, sia dall'inizio che partite in corso, come abbiamo fatto fino ad oggi e domani domani sarà la stessa cosa, entreremo al 200% in partita, chi inizierà e chi subentrerà per dare un contributo alle squadre. Anche questa risposta molto standard, molto piatta anche se vogliamo di Tiago Motta, forse non completamente vera, perché può essere assolutamente vero che la squadra stia bene, questo lo sa lui, vede gli allenamenti lui, ha i dati atletici lui, noi non possiamo metterci bocca, possiamo avere solo delle sensazioni. Sicuramente non per tutti è così, il cambio di Vlaovic dell'altra sera è se somma, perché Vlaovic credo che sia la terza sostituzione consecutiva, se non erro, qualcosa del genere, correggetemi magari nei commenti, ma siamo a una serie di sostituzioni consecutive di Vlaovic, tira dal fatto che non può riposare e quindi si sta magari cercando di impedire di arrivare a quel momento di stanchezza assoluta, però sicuramente il ragazzo non può essere bello fresco e riposato, è impossibile anche se siamo soltanto a novembre. Sta giocando tutto. Buongiorno Alessandra D'Angiorra e Sport, abbiamo visto che avete ricevuto la visita di Bonucci nelle ultime ore e questo mi porta a chiederle due cose, uno se Bonucci magari l'ha aiutata o a trasmettere uno spirito derby del passato, comunque magari ha dato il suo contributo alla squadra e invece le chiedo della difesa che in campionato è tornata nell'ultima partita a non subire gol e come si continua su quella strada. Leo, non abbiamo prima parlato del derby, abbiamo parlato di tante altre cose. Sì, anche perché immagino che abbiano avuto un sacco di altre cose che si possono essere raccontate prima del derby, anche perché se Tiago Motta va da Bonucci e dice Leo, ma mi spieghi come passare un po' di spirito derby della mole degli anni passati? Per me vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando bene, però va bene. Su una prospettiva anche del suo futuro, che ha fatto il corso d'allenatore o sta passando il suo corso d'allenatore e una conversazione su calcio e come sono le cose nel lavoro che può essere un qualcosa di nuovo o magari diverso da quello che ha vissuto lui come giocatore. Sarebbe interessante capire anche quanto hanno parlato di Juve nello specifico. Un ragazzo che lo conosco da molto tempo perché abbiamo giocato anche in Astri. Ah, forse col Geno no, perché se non erro Bonucci fu inserito insieme ad Acqua Fresca nello scambio che portò Tiago Motta e Milito all'Inter. Quindi Bonucci forse fu la chiave per portare Tiago Motta all'Inter. Vado un po' a memoria, quindi probabilmente al Geno non ci ha mai giocato. E' un privilegio per noi avere la visita di un giocatore importante che è stato qua in questa grande squadra come la Juventus. La difesa bene, abbiamo fatto bene a tagliare corti. Io gli avrei riso in faccia, probabilmente no. Ovviamente sto scherzando, però la domanda è un po' così con i Bonucci. E sentiamo la difesa. Stiamo lavorando bene, sia individualmente che collettivamente. Possiamo ancora crescere sull'aspetto difensivo, ma tutti, non solo la difesa. In generale l'atteggiamento è giusto e da lì è la base per continuare a fare grande prestazioni. Sì, è più la fase difensiva in generale che la difesa. Secondo me, quando la Juve riesce ad essere compatta, un bel blocco di giocatori anche basso, importante, corto, in pochi metri, la Juventus ha un'ottima fase difensiva che poi può sfruttare sulle ripartenze, che anche questa è una tematica che ho toccato nel video di ieri e vedete come tutti questi concetti tornano e si incastrano tra di loro. Tiago Motta ha una faccia arrabbiatissima in questo frangente. Una squadra che si chiamava Club Atletico Juventus. Sono curioso di capire in che modo lo possiamo incastrare con una domanda sul derby di Torino. Il fatto che Tiago Motta abbia giocato nel Club Atletico Juventus quando era in Brasile a 18 anni. E aveva le maglie Granata. Non ci posso credere. Conosceva questa storia e soprattutto le chiedo se avrebbe mai immaginato che un giorno quello sarebbe diventato il suo derby. Ma io questa è una domanda che posso fare a Tiago Motta se usciamo una sera insieme e lui se prende un calice di vino e una birra. Grazie. Non potevo mai immaginare, però sono contento, felice di vivere questo momento. Sono soddisfatto del momento che sto personalmente vivendo. Tanto tempo fa ho giocato a una squadra che si chiamava Juventus del colore della maglia. Granata. I tifosi del Toro saranno contentissimi che Tiago Motta non conosce il termine Granata. Bei momenti, bei tempi. Eri giovane quando stavi vivendo. Ero ancora giovane. Esatto. Grande voglia di giocare. Grande voglia di diventare già un professionista di calcio perché già ero a 14-15 anni. Io ho detto 18. Sono andato via 15-16, sono venuto in Europa, sono passati dei belli anni e oggi mi trovo nel posto giusto, nel momento giusto e sono molto felice. Bravo mister che dice sempre queste cose. Buongiorno mister, Guilamo Buccheri la stampa. Io ho una curiosità più personale, cioè in questi 4-5 mesi no? Ma sulla partita niente, vabbè, mezza domanda sulla partita la facciamo. Se ha avuto modo di conoscere la città, cioè qual è il suo rapporto con Torino, se ha avuto modo di apprezzare. Cioè Bonucci, dove mangi a Torino, le maglie che avevi a 14 anni. Vabbè. Se c'è già dei luoghi che le sono entrati. Cioè anche sugli indisponibili. Non lo so, la butto lì, come sta Nico González? Nel cuore. Poi leggendo, vedendo questo derby da fuori, che sensazione le dava? Cosa le trasmetteva? Grazie. Onestamente vivo, anche per una scelta mia, vivo poco la città. Cioè questa è un'ottima intervista per conoscere meglio Tiago Motta. Però non è quello che mi aspettavo. Però mi sento anche lì un grande privilegiato perché durante tutta la mia carriera o da quando sono iniziato professionalmente nel calcio ho avuto una fortuna enorme di stare in grande squadra, vivere in grande città, città bellissime. E oggi continuo a essere un privilegiato di stare in una grandissima squadra e una bellissima città. Non posso chiedere più niente. Fino ad oggi sono stato molto fortunato. A questo sembra lo speciale 50.000 iscritti del canale YouTube di Tiago Motta dove svele i suoi segreti. Beh, meraviglioso. Buongiorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Ti prego Fabiana. Finora abbiamo visto quattro giocatori diversi, oltre a Danilo con la fascia di capitano. Allora io volevo chiederti... Mediamente interessanti. Quanti? Quattro più Danilo, giusto? Cinque. Tiago Motta la sa questa cosa. Ecco, di questa però è una curiosità che non c'entra anche questa niente con il Dario Vittorino, però questa interessa a me. Quindi questa mi va bene. Sì, cinque compreso Danilo. Che però, diciamo, è il titolare della fascia. Nel senso che era quella che ce l'aveva già. Non eravamo abituati alla Juventus. Se sorride Tiago Motta, sei contento di questa cosa? È contentissimo, un bimbo. Dove è sempre la fascia, bene o male, è andata in base alle presenze, all'anzianità, queste cose qua. Volevo chiederti quali sono le caratteristiche che deve avere un giocatore per te per indossare la fascia della Juventus. Tutto. Tutto. Beh, bella risposta. Bella risposta, però tutto. Deve avere tutto. Deve avere tutto. La fascia è qualcosa di straordinario. La fascia è un qualcosa di trasmettere. di dare esempio, di mettersi in difficoltà. La fascia è per questo che questi giocatori fino ad oggi lo hanno fatto, perché ho visto che hanno queste caratteristiche. E sono Gatti, Locatelli, Cambiaso, Danilo. Me ne sfugge uno? Me ne sfugge uno. Chi è l'altro? Per poter liderare un gruppo, ma anche per poter trasmettere quello che vogliamo essere o quello che siamo in questo momento. Che mi manca? Daniele Galosso, tutto sport. Blauvi ce l'ha indossata, non mi pare. Le chiedo, come sta Douglas Luiz da un punto di vista fisico, ma anche morale, nel senso che si è fermato proprio quando stava iniziando a trovare una certa continuità? Comunque avrebbe voluto... Che brauvi ce l'ha indossata inamichevole, però non penso che conti. Sentiamo Douglas Luiz. Finalmente una domanda su... Voglio dare più continuità con le due presenze di fila da titolare. Grazie. Douglas, per una richiesta mia, l'ultima partita contro Lille è venuto con noi. Ah, quindi non stava bene. Cioè è andato solo per una richiesta? Una richiesta mia sia al giocatore che alla staff medico, accelerare un po' il suo rientro nel gruppo. Ah. Ieri in allenamento non si è sentito ancora al 100%. E ho deciso che non lo voglio rischiare e lo vedremo per le prossime partite. Io sono veramente in difficoltà qua. Qua sono veramente in difficoltà. È un oggetto misterioso in questo momento Douglas Luiz. Non riesco a capire come leggere, non solo dal punto di vista della presenza in campo, ma anche di questo. Sì, sarà disponibile o no. Nico Gonzalez non ci sarà disponibile ancora per domani, vedremo per le prossime. E un po' più di tempo Arek e Gleason come voi lo sapete bene. Ecco, mettere Milik sullo stesso piano di Bremer un po' mi spaventa, mi preoccupa abbastanza questa cosa. Immaginavo di averne due e mezzo indisponibili e ne abbiamo quattro. Tutti gli altri. Ah, anche oggi Vasilye, Asic. No. Abbiamo avuto un piccolo problema con lui. Cinque. Io pensavo, Bremer, Milik, Douglas Luiz era già stato convocato. Nico Gonzalez, mezzo e mezzo lo teniamo fuori per precauzioni. Invece no. Si torna anche Douglas Luiz, si aggiunge di nuovo Asic. Asic, dal punto di vista muscolare, veramente quest'anno sta facendo un disastro. Sentiamo se è ancora muscolare o traumatico. Ancora come starà. Anche lui non sarà disponibile con noi domani. Tutti gli altri. Tutti disponibili con la possibilità di iniziare la partita o aiutare durante la gara. Quindi siamo molto corti domani, mi pare di capire. Dusan Vlaovic, ti scongiuro, ti prego. Fategli un'opera. Santificate Vlaovic. Perché è un problema. Nuovamente anche Asic, che è comunque un giocatore offensivo. Ragazzi, ma che è? Ma che è? Buongiorno, mister. Nicola Gallo Mediapason. Torno alla partita di domani. Che gara si aspetta da parte dei vostri avversari? Che nelle prime cinque partite erano primi in classifica. Nelle successive sei invece sono ultimi come parziale. Cavolo, è una bella differenza. Il tempo hanno perso Zapata e forse anche Adams. E poi le chiedo qual è il derby che... Anche Adams hanno fuori. Le è rimasto nel cuore? Nel cuore? Tutti i derby. Tutti i derby che ho fatto sono sensazioni diverse, speciali. Perché lo vive la città, lo vivi te. Anche perché credo che il derby di Milano... Ecco, una cosa che purtroppo invidio tanto alla Roma, alla Lazio, al Milano e all'Inter è avere i derby. Io il derby col Toro lo sento poco. Cioè per me è una partita da tre punti. Avere un derby come i loro è una cosa che purtroppo mi manca. Mi manca tanto. Anche prima o qualche giorno prima della partita, delle partite che vuoi sempre vincere, ma questa partita c'è questa cosa in più che sicuramente si deve entrare in campo con la testa nel modo giusto per fare le cose nel modo giusto. E avere l'equilibrio emotivo e emozionale è allo stesso tempo una grande voglia di superare le avversità e alla fine della partita poter festeggiare o poter essere soddisfatto da quello che hai fatto in campo. Ma soprattutto prima della partita, la settimana della preparazione, come la fai, in che modo ti prepari anche mentalmente. Secondo me queste sono tutte cose che sente il Toro ma che non sentiamo noi. Poi è una mia lettura, però non credo che la Juve vada a preparare con più garra il derby della Mole. Non penso. Il giocatore come allenatore è più o meno la stessa cosa. Abbiamo fatto bene la preparazione, siamo arrivati in un momento in cui stiamo bene. È chiaro che una partita così, devo dire anche che il passato conta pochissimo perché quello che conta è quello di domani quando l'arbitro fischierà l'inizio della partita e noi essere pronti a competere al massimo contro una squadra che sicuramente vorrà competere. Questa è una giusta considerazione perché se guardiamo lo storico in realtà della Juventus nel derby della Mole ci viene da pensare che sia uno storico molto positivo perché è da tanto tempo che la Juve vince. Questo tipo di partita è una considerazione molto interessante. E quando passano i minuti fare e proporre e cercare anche di imporre il nostro gioco e evitare le cose che dobbiamo evitare contro una squadra molto pericolosa anche lì nelle ripartenze. E' questo che ci siamo preparati, siamo pronti e domani entrare in campo dobbiamo fare una grande partita per avere il risultato che vogliamo. Temo che domani il Torino ci aspetterà tanto per via delle loro assenze e per via delle difficoltà che abbiamo noi a sviluppare quando una squadra si chiude. Quindi sì, le ripartenze possono essere davvero la loro arma. Temo questo. Buon pomeriggio mister, Camillo Di Michelis, tutto Juve, tutto Mercato Web. Lei sin dalla prima conferenza stampa ha sempre elogiato la forza di questa squadra e la voglia di crescere e di migliorare. Però volevo sapere se ci raccontava qualcosina su Locatelli che sta giocando con una consapevolezza, una fiducia nei propri mezzi completamente diversa rispetto alle scorse stagioni. Questa è una buona analisi, interessante. è stato anche il titolo delle ultime pagelle, quindi mi piace questa domanda. Merito tutto suo, perché ha avuto un momento di difficoltà, tra virgolette, perché il momento di difficoltà è quando non giocava, non era felice, non era contento. Tipo Lipsia. Li può anche arrivare nel futuro e spero di no, perché vuol dire che sta molto bene, ma li può ancora arrivare. Il momento di difficoltà ce la fa Gioli oggi. ...nel futuro, deve reagire con positività, deve reagire se arriva con... ha voglia di continuare a lottare e a combattere. E' per questo che è tornato in squadra, perché ha reagito nel modo giusto. Penso che possa fare anche meglio. Io pensavo fosse soltanto un turno per quello di Locatelli. Tiago Motta sta dicendo una cosa che mai avrei immaginato invece. Cioè l'aveva proprio tagliato. al posto di Fagioli. Occhio. E' una considerazione interessante. E' un ragazzo che ha voglia di giocare, vuol dire, ha la sana competizione sana con i suoi compagni in allenamento, cercando di dimostrare che è utile, che è capace di iniziare la partita. E' per questo che oggi Manu inizia la partita, perché se lo merita, se lo merita per il lavoro che fa lui. Noi cerchiamo di accompagnarli, di aiutarli a tutti. E alla fine scegliere quelli che stanno meglio nel momento. Tiago Motta, secondo me, anzi, la giro. Locatelli per me è davvero un uomo di Tiago Motta. Uno di quelli che il mister fatica a togliere dal campo, perché gli dà esattamente quello che gli serve, equilibrio. Salve, mister. Marco Baridano, Juventus News 24. Parto da un dato. Il Torino è la squadra che ha subito più tiri in questa Serie A. Le chiedo se, oltre alla concretezza, negli ultimi metri un'arma in più da sfruttare maggiormente domani possono essere i tiri da fuori. Eh, questa è un'ottima considerazione. Bravissimo. Penso che per tutte le squadre noi uguali. I tiri da fuori è un'arma importantissima per una squadra quando vuole fare gol, soprattutto quando si... Sì, forse nel calcio moderno un po' meno, però per noi che arriviamo lì e ci incischiamo tante volte al limite dell'aria un bel tiro da fuori ogni tanto ci sta bene. Si trova di fronte a una squadra che si chiude bene e che quando difende in tanti uomini nell'area di rigore lo fanno bene. Questo sì. Ti rimane questa possibilità di tirare e avere quest'arma da fuori l'aria e noi dobbiamo sfruttarla quando è il momento giusto avendo anche dei giocatori per poter farlo. E noi non la sfruttiamo per niente bene, secondo me. Che perché con Meners abbiamo visto che dal limite dell'aria fa fatica a trovare la porta in questa stagione. Meriggio Mister, Simone Nasso, G-Sport Notizie. All'incirca un mese fa, prima della sosta delle nazionali, ci aveva detto che dopo l'infortunio di Bremer tutti avrebbero dovuto dare qualcosa di più. Le chiedo a tal proposito, a un mese di distanza, quanto è soddisfatto della crescita e del percorso di responsabilizzazione della squadra non solo a livello collettivo ma anche individuale? Grazie. Molto soddisfatto, anche se noi tutti possiamo continuare a dare un qualcosa in più. e quello che gli chiedo ai miei ragazzi tutti i giorni ci può sempre dare di più. E mi metto sempre davanti. Lo stanno facendo, sia in allenamento che in partita, in tutti gli aspetti del gioco ma anche fuori dal campo perché è importante, perché quando non c'è in espogliatoio o nel quotidiano un ragazzo come Gleiso anche un ragazzo che parla poco ma molto importante dentro al gruppo noi tratturiamo... Immaginavo che Bremer fosse uno di quelli silenziosi ma impattanti. Tutti dobbiamo anche lì fare un qualcosa in più per non sentire l'assenza di un ragazzo così importante. Lo stiamo facendo e continueremo a farlo aspettando, come l'ho detto in quella conferenza, aspettando il suo rientro perché siamo convinti al 200% che lui farebbe la stessa cosa e continueremo così. Mamma mia quanto ti manca, Gleison, mister. Manca a tutti, puoi stare tranquillo. Non sei solo, mister. Manca anche a me. Ultima domanda, grazie. Antonio Polino, Radio Bianconera. Le avrei chiesto chi gioca tra Perinfaro, Jolie e Vlaovic. Ma che ballottaggio è? Perinfaro, Jolie e Vlaovic. Sono curioso. Si gioca? Tra Perinfaro, Jolie e Vlaovic. Se ci sono dei nomi che la... Anche il mister c'è il pasto male. Che la convincono nel... C'è mister che guarda... Che dice... Nell'essere titolari. Cioè dico di questi nomi chi ha più probabilità di giocare, secondo lei. Ma che domanda è? I tre possono giocare, ma i tre possono stare anche in panchine e giocare altri. Sicuramente. No, allora cambia... Cioè era un modo per anticipare... Mi ha colpito che nel posto giusto il momento... Eh? Però avevi il diritto di una domanda, non due. No, io ho detto le avrei chiesto. E' come quando al genio esprimi un desiderio di Paladin, che il primo desiderio spesso al genio non è un desiderio quando uscire dalla grotta perché è il genio che ha fatto di sua spontanea volontà. Ci stanno provando questa... L'aveva richiesto. Ah, ecco. Secondo desiderio. Sono in un posto giusto al momento giusto. Seriamente. C'è un retro gusto... Non ho capito la domanda. Cioè è proprio... Questo di forte ambizione l'ho letta in questi termini. Non si vede un allenatore di passaggio. vuole... Ma sul serio? Sul serio? Vuole centrare qualcosa di importante? Io di passaggio? No, dico. Uno che dice sono nel posto giusto, al momento giusto per ricostruire... Quando ho accettato un impegno così non voglio essere di passaggio. Proprio no. Voglio rimanere tanti anni e voglio fare... Però sinceramente, onestamente non penso neanche a queste cose. Penso che il mio quotidiano è il quotidiano che devo fare. Provo, non sempre arrivando, di fare le cose giuste. Come ho già detto prima, senza nessun interesse dietro. Volendo fare il meglio che posso fare come allenatore e un qualcosa in più. Tutto il resto arriverà e quello che arriverà sono contento perché sarò soddisfatto e tranquillo di aver fatto quello che devo fare e un qualcosa in più. E' quello che chiedo ai miei ragazzi e quando vedo che loro stanno con questo atteggiamento qua sono tranquillo e contento perché siamo nella direzione giusta. E' la sagra delle domande assurde. Adesso va... Un attimo. Ok, grazie mille. A domani. Cioè, ma io adesso con tutto il rispetto per i professionisti che sono andati a fare le domande però lo stesso rispetto va portato anche all'allenatore. Stiamo parlando di un altro professionista di un altro campo che ha appena iniziato un percorso che è un percorso triennale in cui l'Eventus ha mostrato di avere fiducia in lui come si può pensare che uno crede di essere di passaggio. Cioè, non hanno preso un traghettatore fossimo ad aprile e Tiago Motta fosse stato scelto come traghettatore dico ci sta la domanda perché dobbiamo capire se questo rimarrà. Ma come può pensare di essere di passaggio? Se la domanda su gioca il secondo portiere l'unico attaccante che c'è o il giocatore che è praticamente sempre titolare come se fossero intercambiabili all'interno della formazione mi sembrava assurda questa mi è sembrata veramente fuori dal mondo e mi è fatto piacere che Tiago Motta abbia risposto in questa maniera per sdrammatizzare un po' ma ci mancherebbe altro cioè se avessi risposto sì mi sento di passaggio domani era da esonerare ma ragazzi ma di cosa stiamo parlando? Ma poi no ripeto la conferenza stampa pre-win to Storino domanda proprio specifica sul derby della Mole questa vabbè questo è quanto fatemi sapere se questo nuovo format vi è piaciuto ricalca un pochettino quelli che sono i video del terzo canale delle reaction per questo mi è venuto in mente di provarlo così aspetto le vostre opinioni che sto nei commenti anche per cercare di capire se sono matto io se è matto Tiago Motta o se queste domande sono normali ciao ragazzi